L'ospedale di Crema vende mobili, ambulanze, apparecchiature sanitarie già troppo vecchie per un'azienda super tecnologica, attrezzature d'ufficio per un totale di 670 mila euro. E questo è il dato che risulta dall'aggiornamento dell'elenco delle dismissioni del patrimonio mobiliare, confermato dal direttore generale Luigi Amblondi, ormai storico leader della sanità cremasca. Arriveranno 70 mila euro dalla vendita di ambulanze e 20 mila dalla cessione di altri mezzi di trasporto. Si avvicina alle casseforti aziendali quindi un'ondata di euro sonanti, che fa bene alla salute, questa volta del bilancio aziendale. Per la verità sempre tra i migliori della Lombardia, ma senza potersi permettere un solo euro di spreco. La regione, a propria volta pressata dallo Stato, non regala più nulla, controlla tutto e il continuo confronto tra Piellone e direttori degli ospedali lombardi, come a Cremona e Crema, lo dimostra continuamente. Basta una differenza di 100 mila euro sulle spese per il personale e visti gli organici ridotti all'osso come a Cremona, lo schilibrio di cassa manda in tilta le relazioni sindacali e la salute dei dipendenti. Crema invece sta meglio, anche perché ha vinto alcune cause in tribunale. Una dottoressa è stata processata e assolta dal tribunale di Cremona e sempre in questi giorni il Tar di Brescia ha respinto il ricorso della Siemens contro la fornitura di un angiografo digitale vinta dalla Toshiba. Rischi legali sempre in agguato che ogni anno, fra richieste di risarcimento danni e spese per avvocati, impegnano pesanti fette di bilancio. Ma c'è anche una storia di pronto soccorso del bilancio, come la vendita dei mobili e dei mezzi di trasporto non più adatti all'urgenza e all'emergenza e, dall'altro lato, le donazioni di arredi, come quel regalo di un lettino ad altezza variabile da parte dell'Associazione Rubino per il Centro Oncologico. La sanità vive anche di partecipazione attiva del territorio.